Ciao a tutti ragazzi sono Orco Verde, sto registrando questo video dopo 11 minuti che ho caricato il video chiamato Urgente Attack Hacker di Dio S che hanno causato i problemi di steam, guardatevi quel video, vi lascerò il link in descrizione quel video se non l'avete visto vi invito a guardarlo. Comunque dopo questo video sono andato su internet e ho scritto Phantom Squad Twitter per vedere se dopo che ho caricato quel video la Phantom Squad che sarebbe il gruppo di hacker. Ho cliccato qui dove clicco sempre per prendere le immagini che vi ho portato anche nei video degli hacker, clicco qui, guardate un po' cosa esce scritto, guardate, 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 account sospeso, cosa che un'oretta fa non mi dava. Account sospeso, questo account è stato sospeso, scopri di più sul perché Twitter sospende l'account oppure torna alla tua cronologia. Io sono andato su scopri di più per vedere e cercare di capire qual era il motivo perché Twitter ha sospeso questo account. Guardate un po' quello che c'è scritto qua, tweet e comportamento abusivi. Possiamo sospendere un account se c'è stato segnalato che viola le nostre regole in merito all'abuso. Quando un account segue un comportamento abusivo, ad esempio invia minacce e vi parlo di minacce, cosa che gli hacker, ovvero i Phantom Squad hanno sempre postato su Twitter, hanno sempre minacciato i giocatori, le persone di hackerare i server di Steam, PSN, Xbox Live. Hanno sempre postato immagini che minacciano di hackerare i server di tutti i giochi e servizi, insomma. Quindi sono appunto state segnalate evidentemente da qualche utente su Twitter e praticamente dopo un tot di segnalazioni Twitter ha sospeso l'account di questi hacker. Andando avanti c'è scritto possiamo sospenderlo temporaneamente o in alcuni casi definitivamente. Qui purtroppo adesso non c'è scritto se quest'account Twitter di questi hacker è stato sospeso temporaneamente o definitivamente. Io spero definitivamente, anche se comunque è semplice poi crearsi un secondo profilo Twitter. Però per il momento tutte le cose che avevano salvato su quell'account Twitter, gli hacker, praticamente le hanno perse. Per cui sono davvero contento che Twitter si è fatto furbo a chiudere l'account alla Phantom Squad, il gruppo di hacker che collabora con la Lizard Squad e i Puddle Corp per rompere il cazzo ai giocatori e alla gente hackerando i server dei vari giochi e servizi. Speriamo veramente che rimanga chiuso per sempre questo account Twitter di questi hacker schifosi. Niente ragazzi, volevo informarvi di questa cosa accaduta dopo il video che ho caricato poco fa. Vi invito a guardare quel video se non l'avete visto, link nella descrizione sotto questo video. A mezzanotte ricordo che caricherò un video per farvi gli auguri. Lasciate un mi piace a questo video se godete anche voi riguardo la chiusura, non so se temporanea o in modo definitivo, spero in modo definitivo, dell'account Twitter di questi hacker, ovvero i Phantom Squad. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui social network e da Orko per la tutta luce nella prossima video. Bella!